Visione cosmica per il nuovo paradigma. Da tempo uso questo termine nei video perché ritengo che sia l'elemento più importante per permetterci di attraversare tempi così straordinari come quelli attuali senza farsi travolgere dalla polarizzazione. E allora in questo video vi spiego qual è il mio contributo e la mia proposta per iniziare a togliere una serie di scatole nelle quali la nostra interpretazione può essere intrappolata e quindi mancare i bersagli. Che peccato! Infatti peccato significa proprio mancare il bersaglio. A tra poco! Benvenuti a Oltre il Velo, a questo episodio nel quale vorrei illustrarvi una proposta che porto avanti ormai da più di tre anni, che è il mio personale contributo in questa epoca di transizione dell'umanità verso qualcosa di sconosciuto, che è di fatto un percorso per iniziare a sviluppare o perlomeno deporre i semi di una visione cosmica. Visione cosmica che significa avere la comprensione o perlomeno la percezione del ruolo importante che l'essere umano ha all'interno di un processo grande che vuole proprio attraverso l'essere umano sviluppare qualcosa nel cosmo che ancora non c'è. È fondamentale avere questo punto di riferimento, questo bersaglio a cui puntare il nostro freccia perché altrimenti risulta difficile, come dire, darsi delle risposte rispetto a tutto quello che vediamo accadere in un'epoca soprattutto come quella attuale in cui c'è una sovrapposizione, una transizione tra ciò che erano le strutture granitiche che hanno rappresentato le nostre certezze fino ad ora e qualcosa che vuole emergere. Le epoche di transizione sono sempre state epoche di crisi e il nostro personale contributo è fondamentale. Se noi non riusciamo a cogliere l'importanza di essere qua, l'importanza di quello che il nostro sguardo può dare nella trasformazione della coscienza dell'essere umano, diciamo che veniamo travolti dal vento di cambiamento che inevitabile sta travolgendo la nostra terra e diventiamo, diciamo così, subiamo senza comprendere. Per me è sempre stato fondamentale dare un senso alle cose. Di questo parlo approfonditamente nel libro che tra l'altro proprio nel 2024 ha visto la luce, che è un altro mio personale contributo a questa epoca che parla appunto di una grande fame. Il titolo è Anmoressia, fame annegata, racconto di una rinascita con spirito e quella fame di cibo in realtà era la metafora di una fame di senso e una vita senza senza senso per me non è vita. È infatti il racconto di una rinascita con spirito perché? Perché è proprio questa visione cosmica che si è costruita dentro di me attraverso dei percorsi personali di studio che sono di fatto poi la struttura di questo percorso che ho strutturato, ripeto, già dal novembre 2021, mi hanno permesso di distaccarmi un po' alla volta dalla mia storia personale, per coglierne il senso e comprendere che attraverso di me si stava compiendo qualcosa. Ecco, avere la visione cosmica significa comprendere perché siamo qua, perché dobbiamo evolvere, perché noi sappiamo che dobbiamo evolvere? Sì, ma io mi sono sempre chiesta perché dobbiamo evolvere? Io non do nulla per scontato, ecco la scontatezza è uno secondo me degli elementi più evidenti in questa epoca, diamo tante cose per scontato e posso dire che in questi anni che insomma ho accompagnato un po' di persone in questi percorsi. Ecco, la cosa più bella che mi è rimasta è proprio vedere i loro riscontri con questa meraviglia di realizzare che tutto quello che noi diamo per scontato non lo è ed è la meraviglia di fatto una frequenza fondamentale per aprirci a questa nuova dimensione, perché è la meraviglia che è una vibrazione dell'anima che ci schiude, ci apre ai mondi spirituali. E allora dicevo non è così scontato perché dobbiamo evolvere e soprattutto ma perché, perché c'è stato, ci viene detto che siamo sbagliati, che qualcosa non va in noi, addirittura per noi che siamo nati in questa civiltà, in cultura cattolico-cristiana, ci viene detto che qualcuno, Gesù Cristo, è morto per noi, per il nostro peccato. E a me questa cosa aveva sempre turbato. E ho detto ma siamo difettosi, che cosa è successo? Io volevo capire e le risposte a un certo punto mi sono arrivate. Mi sono arrivate con i fatti della vita, perché le cose belle, anche quelle più sconvolgenti, accadono, ok? Accadono. E vi assicuro e ve lo mostro anche attraverso i video dove vi racconto i vari capitoli che stiamo attraversando con la magica, con il magico linguaggio dell'astrologia. Vi garantisco che facendo consulenze alle persone mi rendo conto che c'è questo appunto libro della vita dove tutto è scritto e noi dobbiamo solamente seguire le tracce. Ecco, comprendere perché abbiamo un progetto è fondamentale avere il quadro perché c'è un progettone, un progettone che ha un obiettivo, un bersaglio per l'umanità. L'umanità ha un compito enorme in un progetto grande, per cui invece che darvi adesso delle informazioni a caso, è importante arrivarci un po' alla volta, soprattutto in questa epoca dove tutto si può ottenere cliccando su un pulsante e ci arriva velocissimamente qualcosa che però se ne va via. È fugace, non rimane niente. Ecco, è un percorso che vuole consolidare delle basi per poi permettere alle persone di muoversi da sole, ma avere delle basi è fondamentale. Allora dicevo, per me le basi più importanti sono state quelle, quelle che mi hanno dato risposta. Perché evolviamo e perché ci sentiamo sbagliati? Mi sono arrivati dall'antroposofia o scienza dello spirito di Rudolf Steiner. Quindi qui dentro questo percorso ci sono le cose che ho estrapolato da questi insegnamenti e da questi insegnamenti ho estrapolato anche gli elementi per poter spiegare come siamo strutturati. Perché se noi non comprendiamo come siamo strutturati non abbiamo modo di riconoscere i processi che accadono al nostro interno. Quindi anche questo è parte del processo. Vedere come siamo composti e come queste parti che ci compongono sono collegate a delle fasi che hanno avuto i loro tempi di svolgimento. Nulla è così scontato. E allora quando si apre alla meraviglia succede qualcosa dentro di noi. Non è qualcosa che rimane nella testa. Non l'abbiamo solo capito ma lo comprendiamo, lo prendiamo dentro. Ecco, questo è il mio metodo, no? Cercare di meravigliare. I concetti sono importanti. Utilizzo tra l'altro moltissimo questi giochi di numeri, di parole per dare ancora più un senso di meraviglia. Ok? E poi verso la fine inizio a inserire, perché prima dobbiamo comprendere, avere questa immagine meravigliosa di che cosa è il nostro progetto come umanità. Stiamo andando verso l'era dell'acquario e quindi come la facciamo questa umanità? A voce tradire e fare umanità c'è il tradimento dell'umanità. Cosa potrebbe essere il tradimento dell'umanità? Il tradimento dell'umanità potrebbe essere tantissime cose ma prima di tutto il tradimento della nostra umanità. Quindi dobbiamo comprendere che cos'è l'essere umano per avere questa visione che ci permetta di sviluppare un collegamento con i mondi spirituali. Quindi dobbiamo avere chiaro che cos'è spirito, che cos'è anima, perché c'è anche tanta confusione e cosa l'anima vuole esprimere attraverso di noi. Quindi insomma c'è un po' di tutto. Dicevo, verso la fine del percorso inizio ad inserire un altro elemento dirompente che mi ha cambiato profondamente la vita e che è quello che ho compreso e messo in pratica grazie al corso in miracoli. Un corso in miracoli è un tomo gigantesco che è veramente difficile da leggere ma che nel corso degli anni mi ha permesso di fare dei click potentissimi e che ho avuto bisogno di digerire ma alla fine mi sta aiutando a spostarmi su nuovi elementi perché anche l'antroposofia di Rudolf Steiner che è la, diciamo così, la struttura, il fondamento vista con questa prospettiva ci dà un quadro ancora più attuale di quelle che sono i movimenti. Però quello del corso i miracoli che non è un libriccino che ci permette di realizzare tutto quello che vogliamo, quindi di fare magia e vedremo in cosa consiste veramente il miracolo, è verso la fine proprio intanto come spunto, darò degli spunti perché poi diventa il fulcro della continuazione, la prosecuzio, l'ho chiamata, che sto portando avanti con le persone che hanno fatto già le prime edizioni e quindi e che mi hanno confermato la loro fiducia. Allora questo percorso si svolge in 8 più 1 incontri che poi diventano anche 10 o 11 via zoom il giovedì sera dalle 21 alle 22 in date che adesso vi mostrerò attraverso la pagina del sito dedicata e vengono ovviamente registrate perché hanno bisogno di essere digerite ed ha un contributo devo dire simbolico. Cosa significa questo? Significa che non è un importo impossibile, ok? È un importo veramente per 10 incontri secondo me è accessibile a tutti, anche perché nel caso di difficoltà sono sempre venuta incontro. Lo comunico però nel momento in cui le persone mi manifestano il loro interesse e mi contattano via email. Quindi adesso vi mostro dove andare a vedere, vi mostro anche le date che ho deciso di fissare sul calendario. Allora questo come sempre il sito mio di oltre il velo paolamarangoni.it o anche oltre il velo.it. Ecco vedete questa frase? Ci tengo a farvela vedere perché dice e tutto era scritto nel tuo libro i miei giorni erano fissati quando ancora non esisteva uno e proprio questo salmo ha un codice numerico che mi permette attraverso tutto perché vi dicevo al mio modo di trasmettere le cose che deve essere che stimola l'interesse e la meraviglia. Vi farò vedere la meraviglia simbolica di quei numeri, ok? Non è parte della mia vita questo salmo e quando a un certo punto me ne sono ricordata ho detto caspita però è esattamente quello che faccio perché quando leggo i temi natali mi accorgo che c'è un libro ed è il libro che vi cerco di raccontare ovviamente dal mio piccolo attraverso quelli che sono i video delle analisi dei transiti. Allora il menu qui sopra da me dovete cliccare su percorso bersaglio e arriva la pagina, ok? Qui è tutto quello che vi ho detto adesso a voce, ok? Se avete piacere avevo predisposto nel secondo anno una pagina con i riscontri delle ragazze che avevano, c'era stato un ragazzo, anche l'anno scorso un ragazzo infatti mi piacerebbe che ci fossero rappresentanti del sesso maschile perché c'è bisogno anche di questa energia. Allora avevo chiesto se potevano fare un feedback tanto perché le persone potessero rendersi conto che non è una cosa teorica ma è qualcosa che lascia un segno dentro, cioè quindi io non voglio fare la venditrice di pentole, sapete che è una delle cose che utilizzo quando devo parlare soprattutto di giovi in gemelli e certi transiti, però credo che sia utile proprio per tastare il posto, allora qui lo trovate, basta cliccare qui e si va a vedere i nomi delle persone, poi non l'ho più fatto perché è così. Allora tornando indietro vi spiego quali sono le domande, perché sono qui, perché esistiamo come un'umanità, perché evolviamo, vi siete mai chiesti, perlomeno facendo dei percorsi di crescita spirituale, ci viene detto che c'è stato un periodo in cui l'essere umano è involuto e poi adesso siamo nella fase di ritorno all'uno. Quindi questa fase, no, io ho detto ma scusate, io mi sono sempre fatta tante domande, chi ha letto il libro troverà questo dettaglio, no? Perché, 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 perché? Ecco, io mi sono detto ma che dovevamo involvere. Beh, beh, questa cosa sembrava assurda, cioè mi sembrava anche una presa per i fondelli ed è stato questo, questo sentirmi presa per i fondelli che è stato il motore per andare a comprendere perché, perché se non hai uno stimolo tu dai tutto per scontato, dai tutto per scontato e invece vedremo che non c'è niente di scontato. E qui questo discorso del salvatore redentore. Vi dicevo che utilizzo i codici numerici, l'aspetto della scienza dello spirito e anche appunto il corso in miracoli verso la fine. Allora, questi sono gli argomenti. Ricordare chi sono, mi sono scordato della musica delle sfere, quindi la tematica della vibrazione. Inizieremo leggendo un testo importante, due testi importanti. Perché evolviamo, quindi il significato di evoluzione, libro della vita, che andando a cercare l'etimologia ho scoperto che è qualcosa che si capovolge. Voi sapete che a me piace il discorso del ribaltamento, capovolgimento. Ok? I vizi di produzione dell'essere umano, che si è corrotto strada facendo, ma cosa è successo, qualcosa è andato storto? Che influenza ha questa cosa sulla mia coscienza attuale? Ha costruito sicuramente delle scatole. Quindi dobbiamo vedere perché è successo così, perché senza il senso non c'è vita. Questa è la mia visione. E poi fondamentale l'energia cristica. Cos'è questa energia cristica? Capire che non è Gesù l'energia cristica. È qualcosa che prescinde dalla religione. Ok? Quindi che ruolo ha questa energia cristica? Quindi la devo collocare rispetto al progettone. E perché il salvatore? Basta andare a vedere il significato, l'etimologia di redentore, che ci collega alla schiavitù. Vi ricordate che vi parlavo che siamo dentro ad una grande voliera. Pensiamo di essere liberi, invece siamo schiavi. E quindi qui il discorso del ruolo cosmico del Cristo e i codici numerici, l'utilizzo dei codici numerici dentro le sacre scritture, rapporto tra Cristo ed essere umano e tra essere umano e sistema solare. Quindi sostanzialmente i numeri spiegano il dispiegarsi del progetto che ruota nel cosmo zodiaco per poterci liberare dagli effetti collaterali della ruota del criceto. Quindi questo ruolo dell'essere umano che quando lo riconosciamo fa un po' alla volta emergere in noi una riconoscenza. La riconoscenza, la gratitudine insieme alla meraviglia, la compassione sono le frequenze che la madre terra in questo momento chiama. Chiama perché vengano proprio secrete da noi stessi. Queste sono le date. Le date sono novembre 7 e 21, sono dei giovedì, dicembre 12, gennaio 9 e 23, febbraio 6 e 20 e ovviamente anche marzo 6 e 20. Quindi praticamente sono 9, 8 più 1 e molto probabilmente ci sarà, anzi sicuramente, la decima, diciamo così, bonus track. Perché in questo momento, dicevo, quali emozioni e emanano da noi. Il campo a bisogno è molto importante quello che noi dobbiamo appunto esprimere. E quindi, come vi ho mostrato tantissime volte in questa mappa, il processone, il processone, noi dobbiamo, non possiamo esprimere amore e fiducia e quindi gettare nel campo, seminare nel campo queste vibrazioni. Se, quando è che arriva la paura e il dubbio? La paura e il dubbio ci sono perché non abbiamo compreso, non comprendiamo perché sto vivendo questa situazione. Sono avvolto, avviluppato dentro il mio dolore, dentro la mia storia e quindi se non riesco a dare un senso più grande, questa cosa mi assorbe energia, mi fagocita in un buco nero. E c'è bisogno di persone che si distacchino dalle proprie storie. È quello che vi sto raccontando in questi video, liquidazione cosmica, tutti questi, adesso mi viene in mente l'ultimo video che ho fatto, no? Ma è il processo in atto. La vita ci sta dicendo, ma vuoi vivere per la sopravvivenza o vuoi vivere per vivere? La sopravvivenza era una fase che abbiamo dovuto passare, ma se non comprendiamo perché l'abbiamo dovuta passare, se non lo comprendiamo veramente, diventa solo uno slogan, da sopravvivenza vera vita. Dobbiamo fare la nostra questa cosa, dobbiamo comprendere che per sopravvivere, per imparare a sopravvivere, si sono sviluppati degli effetti collaterali. E perché dovevamo imparare a sopravvivere sulla materia? Perché solo sulla materia potevamo divenire coscienti dell'amore in maniera indipendente, che è uno degli elementi fondamentali per sviluppare quel grande contributo che l'umanità deve dare in un grande progetto. Quindi per me questa è proprio una missione, ok? Non mi sento così esaltata, però lo sento come qualcosa di importante, un contributo personale. È un momento di grande condivisione con tutte le persone che hanno finora partecipato, è rimasto sempre un bello scambio perché ci si continua a sentire. Quindi se avete piacere, vi metto qui sotto la descrizione il link della pagina con tutti i dettagli e il mio indirizzo email per contattarmi, avere delle lucidazioni, comprendere quanto costa eccetera, ma vi ricordo è un contributo estremamente simbolico. Vi ringrazio dell'attenzione e spero tanto di avere qualcuno di voi tra i partecipanti. Ciao!